Yo bro, quest'oggi voglio insegnarvi tre canzoni per rimorchiare le ragazze, no sto scherzando, è brutto il termine rimorchiare ovviamente, per approcciare. Sono canzoni però che non vi aspettate quindi non le solite, attenzione, non sono canzoni nuove quindi sono canzoni che hanno una corposità, sono canzoni passate e sono anche piuttosto facili da suonare eh, all'incirca. Vi dirò diciamo l'inizio di ogni canzone così potete poi trovare il resto o nei miei tutorial o in giro in rete. Let's go! Is it she wonderful? Is it so precious? Lest that one being a soul? I never stole the truth in love, making one as a love as she. Is it she lovely made from love? Bella ragazzi! Non sono così tanti accordi, ho messo il capotasto sul secondo tasto, potete mettere anche il capotasto senza capotasto appunto. E abbiamo questo la minore e poi andiamo sul re maggiore quindi prime posizioni, fa maggiore e poi do. Quindi quattro accordi molto facili. Is it she lovely? Re maggiore. Is it she wonderful? Come vedete sul fa alzo il. Wonderful. Seguo proprio la melodia. E atterro sul do maggiore, ok? Is it she lovely? Is it she wonderful? Già con questa ragazzi, l'avete presa, io ve lo dico. Seconda canzone che non vi aspettate, andiamo su Beyoncé. If I were a boy, even just for a day, hide a roll and chew off patty, the morning through the one and to go, I think I understand. I didn't come from forever. If I were a boy, even just for a day, if I were a boy, even just for a day, if I were a boy, even just for a day, if I were a boy. Molto facile come canzone, capotasto o sul primo o sul terzo o lo togliete, quindi molto easy come cosa. Quattro accordi, Mi minore, Do maggiore, Sol maggiore e Re maggiore, ok? In questa onità. La cosa difficile ovviamente è cantare in questa canzone. Molto bella anche arpeggiata, come vedete con la mano destra, ok? Quindi iniziate e arpeggiate, arpeggiata. If I were a boy, basso, basso, corda alta, corda alta. Quindi un, due, tre, quattro. E poi potete partire con le pennate, ok? Come finire in bellezza con una delle canzoni più famose di un gruppo rock, più famosa di sempre. Wake me up when September ends. Non piaggete. Mi raccomando. Come finire in bellezza con una delle canzoni più famose di un gruppo rock, più famosa 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 di un gruppo rock. Come finire in bellezza con un gruppo rock, più famosa di un gruppo rock, più famosa di un gruppo rock. Entro, che è la parte più figa di sempre. Terzo dito sul quinto tasto della quarta corda, ok? Come vedete la corda terza suonerà uguale, no? Perché suoniamo la stessa nota. E giochiamo su questo, col primo dito che va sul terzo tasto invece della seconda corda. Quindi, quarta, terza, seconda corda. Un, due, tre. Ok? E lo ripetiamo. Per aiutarvi mettete il mignolino sopra la cassa, ok? Così avete un po' più di misura con le dita. Quello che facciamo poi è fare la scaletta. Bam! Sostituiamo il secondo dito sul quarto tasto della quarta corda. Sostituiamo. Bam! Quindi, cambia ditteggiatura. Il terzo tasto della seconda corda rimane schiacciato. Il primo dito rimane sul secondo tasto della quarta corda. Quarta corda a vuoto. E poi, gli accordi restanti. Wake me up! Do minore. Smettila di imparare a suonare la chitarra su YouTube. Non serve. Cioè, non guardare più i miei video. Cioè, quello che ti consiglio è di entrare nel mio corso Academy Chitarra Digitale. Che è la raccolta di 200 lezioni per imparare a suonare la chitarra con me dalla A alla Z. Ok? Lo ripeto in ogni video. Ci sarà un motivo. Clicca qui giù in descrizione. Ok? C'è il mio corso, tutte le informazioni. E ci vediamo dentro. Ciao a tutti!